La circoscrizione Puglia di Amnesty International sta organizzando un campo estivo che si terrà dal 30 agosto al 2 settembre. Dal titolo I diritti non vanno in vacanza, le attività si terranno presso Casa Betania, Contrada Boara a Mottola. Il campo è interamente gratuito ed è rivolto ai giovani con un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. La tematica sarà quella della discriminazione. Per informazioni www.amnesty.puglia.it 347 6553 188 Continua. Grazie a tutti.